Un autunno estivo sarebbe un paradosso se non fosse confermato dalle temperature registrate in questo periodo. L'Italia è sotto una calda coperta e, secondo le previsioni, l'alta pressione verrà alimentata dai venti del Sahara con un aumento delle temperature su gran parte dell'Italia e dell'Europa. Un'altra spia del riscaldamento globale, non tanto per l'evento in sé quanto per la frequenza, la durata e l'intensità di questi fenomeni. In questo quadro meteorologico si innesca un altro paradosso, freddo e inquinamento a valle, caldo in montagna. Si innescano delle inversioni termiche quando la situazione è di questo tipo, quindi in pianura padana, nelle prime ore del mattino, abbiamo il ristagno dello smog nei bassi strati dell'atmosfera, quindi spesso in pianura il cielo è nuvoloso e quindi le temperature sono più basse rispetto alle zone di montagna. Al momento abbiamo 8 gradi sopra la media a 2000 metri di quota sulle Alpi. Il caldo autunno ferma la Coppa del Mondo di sci per mancanza di neve e per il momento non sono previste nevicate, con conseguenze dirette oltre che sullo sport, su tutta la filiera del turismo invernale in montagna. Ma ci sono conseguenze anche a valle sia per il ristagno degli inquinanti nell'aria che respiriamo che per l'agricoltura e per le condizioni economiche di chi lavora la terra. I cambiamenti climatici stanno condizionando ancora una volta l'agricoltura. Purtroppo questo caldo, questo clima siccitoso sta condizionando le semine e crea anche squilibri nelle piante. È chiaro che gli agricoltori dovranno fare i conti sempre di più con questo clima che mette a dura prova tanto per cambiare le aziende agricole.